La letteratura al lavoro. Un nuovo libro, Il buon soldato Schweik di Jaroslav Hasek, viene presentato a Milano dal professor Ferrata. Un attento pubblico affolla la platea del piccolo teatro dove ha luogo la manifestazione letteraria. Alcune pagine del romanzo lanciato di recente dall'editore Feltrinelli vengono lette da Boazzelli, il quale dà vita alle vicende del buon soldato e dei suoi camerati. Il successo quanto mai lusinghiero prelude al successo con cui sarà colto anche in Italia il romanzo di Hasek.